Oh, dai, dai! Continuiamo con gli addominali! Buon'energia! Spingo, spingo! Quattro, tre, due, e uno, stop! Schiena a terra, sulle gabbette, apro e chiudo! Quattro, tre, due, uno, piego le ginocchia, piedi uniti, e da qui, apro e chiudo! Mantenendo i piedi uniti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e ancora otto, get ready! Sette, sei, cinque, quattro, stop! Allora, da qui, tocco con i talloni il trampolino e le ginocchia al petto! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, rest! Rimango qua, ed ora alterno, tocco con un piede il trampolino, tocco con l'altro! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, rest! Rilasso, un salto, tutto bene? Riprendo, tocco con te due e ginocchio al petto! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora otto! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, tre, due, Uno, rest! Ora, talloni, ginocchia, salgo, piego, giù! three, two, salgo, piego, giù! E, stendo qui, giù! E, stendo qui, giù! E, stendo qui, giù! E, stendo qui, giù! E, three, two, quattro, rest! Faticoso? Un po'. Però secondo me funziona, quindi rifacciamolo. Qui, spesso, qui, giù, e su, qui, giù, e su, qui, giù, e su, qui, giù, e su, qui, giù, e su. E visto che secondo me funziona, lo ripetiamo altre due volte. Qui, spesso, qui, qui, così se lunedì sentirete ancora gli addominali, sarete tanto soddisfatti e mi penserete tanto. Qui, spesso, qui, su, e giù, e su, qui, rest, ancora uno, su, qui, e giù. L'ultimo, l'ultimo. Va, qui, su, e giù, qui, su, qui, giù, e su. Qui, su, qui, giù, e 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 su. Completo! Porto le ginocchia al petto, un palco. Respiro profondamente, mi rilasso. Sulle gambelle, apre e chiudo. Facciamo scendere il sangue, aiutiamo il ritorno venoso. Uno, due, tre, quattro, cinque, e stop. Porto le ginocchia al petto, tengo la posizione venti secondi, sprezziamo bene. Lascio, appoggio i piedi per terra, su un trampolino, prendo solo un ginocchio, lo porto al petto, e da qui, stendo la gambetta, la prendo con le mani, piede a martello, e la avvicino pian pianino, al petto. Tira tutto, non si importa, tira tutto, o tira solo me. Rest, appoggio, cambio gambetta. Stendo, piede a martello, e porto verso il petto. Lascio, piego, tutte e due le ginocchia al petto, e salgo qui. Gambe larghe, allungo e torsione. 3, 2, 1, rest, passo il centro, mani a terra. Cambio parte, allungo e torsione. 3, 2, 1, rest. Ritorno al centro, qua. 3, 2, 1, work. E su, pulizzo. E su, pulizzo. 3, 2, 1, rest. E pian piano, salgo, sbrotolo la colonna. 3, 2, 1, work. Respiro, giù, giù, ancora uno, giù, e fuori tutto giù. Bravissime!